Ciao a tutti e signori, bentornati in questo nuovissimo video, bentornati e andiamo a parlare di calcio Allora ovviamente devo usare un tono bassissimo, sono alle 4-10 di notte, però noi il video non ce lo facciamo mancare Juventus-Real Madrid me la sono guardata, pensavo di collassare, invece no, ce l'ho fatta a resistere a una partita fino alle 4 di notte Comunque bentornati, allora ultima partita di queste cazzo di mucchevoli estiva, del momento, perché questo torneino che abbiamo fatto, com'è che si chiama, so che l'International Champions Cup, qualcosa del genere Comunque l'International Champions Cup chiamiamola così, è finita, eravamo noi il Real Madrid, lo United, però abbiamo giocato tutte e contro tutte, volevamo giocare contro il Barcellona Invece causa, non so che cosa, la cagarella, tipo io è venuta con il Barcellona, non abbiamo giocato, però comunque oggi posso dire, i primi 25 minuti, buoni McKennie, beh, beh, non ha fatto male, Weah, il panico, il panico ha fatto Weah, cioè l'occasione parte da un tiro che va sul palo E se non sbaglio è proprio lo stesso Weah, e poi sulla rispinta la prende e il facile tapping per Mois Ken, bravo la a farsi trovare sul posto Mentre invece il secondo gol arriva proprio da George Weah Poi al 38esimo riaccendo le speranze del Real Madrid Vinicius Junior e il Real, diciamo che hanno dominato il secondo tempo Il problema è quello, noi siamo, abbiamo colpito in contropiede, però questo ragazzi è ciò che vedremo durante l'anno Il problema è questo, la Juventus, gli Allegri quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo visto che punta tanto su un inizio spumeggiante Come aveva fatto del resto l'anno scorso, che aveva degli inizi veramente molto spumeggianti in alcune occasioni Per poi andare scemando e richiudersi in difesa ripartendo in contropiede Questo a me non va bene minimamente, perché ovviamente io cerco e vorrei il calcio più spumeggiante, più bello possibile Che poi io, ragazzi, ve lo dirò sempre, io so della teoria di Allegri che non vince Chi tira di più ma vince chi segna prima E chi segna di più, quello è un altro discorso Ovviamente fa più piacere vedere delle belle azioni Poi al 95esimo arriva un gol, per cui io anche uso il tato Allora, a me di queste partite non me ne frega niente Però semplicemente ero un po' in astinenza dalla mia Juve E quindi volevo semplicemente vederla E al 95esimo arriva il gol di Dusan Glowicz E voi direte, ok, gol, Dusan Glowicz, bravo Però mi è piaciuto molto vederlo, baci allo stesso a Juve e fare questo gesto con la maglia Perché vuol dire che lui vuole rimanere Quello si è detto, ragazzi, che Lukaku, anche proprio prima della partita Abbia l'accordo verbale con la Juventus Però adesso il problema è Glowicz, se ne vuole veramente andare E sembra di no Io mi auguro che resti Glowicz Anche se la vedo veramente molto difficile Però mi auguro, ovviamente, che resti Però questo mi accende un attimo le speranze Perché quando tu baci la maglia Comunque può essere anche un gesto di addio Perché tu dici bacio la maglia, l'ho voluto bene Però lascio Oppure può essere un gesto Io e stai a chi Io voglio rimanere ancora È quello che io mi auguro sia Poi Miretti Miretti, porca puttana, ragazzi Miretti non lo posso vedere Miretti mi auguro che venga mandato in prestito In questo momento la Juve è tantissimi centrocampisti E mi auguro che venga mandato in prestito Senza il condubbio Miretti E Parnecea Si può anche tenere come sesto Mediano, magari Cioè, in questo momento il nostro centrocampo sarebbe Centrale Miretti Vogliamo mettere Cilling? Mettiamo Cilling Fagioli Locatelli Parnecea McKennie Nicolosi Caviglia Siamo in eccesso Comunque McKennie ha fatto una buona partita McKennie io lo vorrei comunque piazzare Però comunque ha fatto una buona partita stanotte Mentre invece c'è a dire che UEA Comunque con le sue scaloppate State attenti al fantacalcio Perché secondo me potrebbe essere un buon giocatore Fatemi sapere se vorreste Cioè, fatemi sapere se qualcuno guarderà questo video Vorrei anche portare una serie sul fantacalcio Su chi consigliarvi E vorrei quest'anno portarvi un pochino i miei resoconti di tutto il fanta Cioè a dire che Parlando di prestazione difensiva E secondo tempo quando è entrato Gatti Gatti mi è veramente sorpreso Ha fatto molto bene E io spero ragazzi che questa difesa Tra l'altro un secondo Al posto di Alexandro o qualcun altro Perché Alexandro è titolare Non si può vedere Un Danilo Bremer E E gatti Come titolari Però vorrei vedere questa difesa Con Huizen Huizen ragazzi Io prego Dio In terra In cielo Quello che Vorrei Huizen Che giochi Voglio Huizen Che mi ha veramente convinto Mi ha stregato in questi amichevoli Una cosa che mi ha fatto un po' Incazzare in questi amichevoli Che non abbiamo fatto entrare Il Diz al posto di Milik Il Diz Io lo voglio vedere Dall'Under 23 Secondo me può fare veramente tanto bene Non è in questa attuale Juve Però comunque in generale Può fare bene Mi auguro che Max Lo faccia giocare Il Real Madrid Non ho molto su cui esprimermi Hanno più o meno fatto il calcio Hanno più o meno giocato di più C'è a dire che comunque Abbiamo due stili di gioco Differenti Però abbastanza simili Comunque io ragazzi Sono le 4 e 9 Sto fuso Io vi saluto E ci vediamo domani Anzi Stasera Stasera Stamattina Con un nuovo video Sto fuso Sto fuso